Siamo qui a chiedere ai leader del G8 di mantenere le promesse che hanno preso in passato e noi lo chiediamo soprattutto anche al Premier Berlusconi e facciamo pressione con tutti questi attivisti oggi in piazza per ricordarli appunto che ci sono delle questioni che devono essere affrontate e che ci sono delle promesse che devono essere mantenute, per cui siamo tutti qua a fare pressione contro la povertà, come coalizione italiana contro la povertà. Chi siete? Siamo la coalizione italiana contro la povertà che è una coalizione di organizzazioni, raccogliamo più di 70 organizzazioni, ci potete venire a trovare sul sito www.gcap.it. La nostra campagna si chiama Press the 8, ecco qua il logo e potete venire a vedere anche un gioco sul nostro sito in cui chiediamo appunto di accumulare la pressione anche online e quindi di schiacciare le testine di tutti gli otto leader del G8 per fargli mantenere le pressioni. È l'ultimo, è il rush finale perché domani si apre il G8 e quindi speriamo che i leader accolgano le nostre richieste.